Musica, teatro e cinema al centro del calendario degli eventi estivi che si svolgeranno in piazzetta San Felice nel centro storico di Isernia, nel cuore della città, un salotto culturale a cielo aperto in cui si alterneranno 5 spettacoli teatrali, 6 proiezioni cinematografiche e un'importante esibizione musicale con Gabriele Mirabassi, uno dei più famosi clarinettisti in Europa. È una consuetudine che abbiamo inaugurato già l'anno scorso con tutti gli eventi estivi, quelli di maggiore frequenza fatti all'interno di piazzetta San Felice che ci sembra il posto migliore per essere trasformato in salotto culturale o dedicato alle varie forme d'arte. Quest'anno si aggiunge il cinema che ha il suo fascino, nel senso che almeno personalmente lo trovo molto affascinante vedere un film all'aperto d'estate e soprattutto si presta anche a una fruizione da parte di tutte le famiglie. Il 19 luglio, unica data in provincia di Isernia per la rassegna Burgo in Jazz, la New Talent Jazz Orchestra si esibirà in uno spettacolo che richiama Fellini e la sua musica. E poi spazio al teatro, arrivano a Isernia i Carta Bianca, duo comico e torna la rassegna della compagnia Cast che si apre con un omaggio a Massimo Troisi. Nel cinema all'aperto invece due appuntamenti per i più piccini con i successi della Disney e quattro commedie tra cui Caruso Pascoschi di Francesco Nuti. Nel momento in cui c'è stata la scomparsa di questo grande artista non è stata fatta nessuna proiezione, in genere si fanno proiezioni. Per Francesco Nuti non si sa per quale motivo non è stata fatta nessuna proiezione, pure di film bellissimi ne ha fatti. Per cui nel nostro piccolo abbiamo cercato di omaggiarlo in questo modo.